Ciao amici di Feedback Bianconero, benvenuti per questa nuova pillola. Oggi parliamo di Alex Sandro, il terzino sinistro brasilano in forza alla Juventus dal 2015, prelevato dal Porto per la somma di 26 milioni di euro. Perché parliamo di Alex Sandro? Perché è un giocatore, dato per sicuro partente almeno inizio anno, in particolare indirizzato verso l'Inghilterra, mentre oggi la situazione non sembra essere così, almeno con grandi margini di certezza, perché la Juventus comunque in caso di vendita vuole o vorrebbe monetizzare bene questa cessione, stiamo parlando di un giocatore di 29 anni che va verso i 30 e un 91, quindi o viene ceduto oggi, quest'anno, in modo sostanzioso, cercando di fare quindi anche delle buone entrate per il bilancio, perché chiaramente il suo acquisto è stato ampiamente ammortizzato, oppure resterà la Juventus rilanciato da Andrea Pirlo. E il quesito che pongo è, dareste o meno fiducia ad Alex Sandro? Andiamo a ragionare insieme. Io so che questo video dividerà molto i tifosi bianconeri, però vi invito anche a cercare di ascoltare con attenzione quello che intendo dire, perché altrimenti si possono creare dei facili fraintendimenti. Dunque, Alex Sandro per quello che mi riguarda è un giocatore dalle grandi qualità naturali. Per qualità naturali intendo un giocatore dotato di forza fisica, a stacco aereo, a corsa, a velocità, anche comunque, insomma, a punto potenza ed ha un'ottima tecnica di base. Quindi come qualità naturali io sinceramente non discuto Alex Sandro da un punto di vista tecnico. Certamente è un giocatore che è venuto alla Juventus con delle lacune difensive che in parte sono state, diciamo, eliminate, però alcune ci sono ancora, è evidente. Ma il problema di Alex Sandro, che in particolare è un problema che si è manifestato negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo forse, è stato soprattutto il calo di concentrazione di questo giocatore durante alcune partite. Calo di concentrazione vuol dire che il giocatore non ha una continuità sia nell'anno sia all'interno della stessa partita, dove spesso ha alternato buone giocate a giocate disastrose, senza che sto qui ad elencarle. Quindi qual è il problema? Dal mio punto di vista è un problema di attenzione, non lo discuto tecnicamente. Per carità ci sono giocatori più forti, è normale, ma ci sono anche molti giocatori più scarsi. Non è così semplice pescare un terzino sinistro più forte di Alex Sandro. Attenzione, bisognerebbe investire comunque in modo deciso sul mercato, perché i terzini sinistri o anche i destri forti costano, e sappiamo il peso specifico dei terzini sulle squadre, soprattutto in campo europeo, tant'è vero che le ultime squadre vincitrici della Champions hanno sempre avuto dei grandi terzini, sia destro che sinistro. oppure bisognerebbe appunto scovare il cosiddetto giovane di belle speranze, ma che poi si rivela subito pronto dopo pochi mesi, e quindi si fa un investimento, un'ottima operazione di scouting. Quindi dal punto di vista, diciamo, della cessione, io ritengo che se appunto la Juventus decide di cedere a Alex Sandro, deve farlo quest'anno e monetizzare, e poi chiaramente investire su un altro terzino. Se si deve cambiare, tanto per cambiare, non sono d'accordo, perché poi si rischia addirittura di andare a peggiorare la fascia sinistra, e andiamo ad analizzare anche un pochino le caratteristiche di questo giocatore. Sì, è un terzino sinistro, ma non solo. Può giocare tranquillamente esterno-sinistro in una linea 4 di centrocampo, ha fatto addirittura, quando era più giovane, che sinceramente negli ultimi anni ha perso un po' quello sprint nell'uno contro uno, ha fatto addirittura l'esterno-sinistro offensivo in determinate partite, è stato impiegato in emergenza, è chiaro, quindi non è il suo ruolo, anche come mezzala-sinistra-interno-sinistro di centrocampo. Quindi è un giocatore comunque duttile, perché pur essendo un mancino, comunque il destro diciamo che non lo usa male, ha fatto anche dei gol di destro, insomma sa cavarsela anche con il destro. Alex Sandro in un ipotetico 3-4-3 che potrebbe schierare Pirlo, chiaramente giocherebbe come esterno-sinistro di centrocampo e potrebbe scalare in una linea 4 difensiva a fare il terzino-sinistro. Attenzione, io non escludo che Pirlo possa addirittura in determinate partite, contando che De Litt tornerà a novembre, Chiellini non giocherà sempre, in caso di necessità, volendo impostare a 3, quindi è solo un'ipotesi la mia, però poiché è stato provato Danilo, potrebbe essere provato anche Alex Sandro, che chiaramente non ha le caratteristiche del centrale difensivo, non ha quella bravura in marcatura, copertura, eccetera, però in fase di impostazione ha una buona qualità tecnica. In fase difensiva, poi quando la Juventus deve difendere, chiaramente non deve impostare, la linea diventerebbe a 4, e Alex Sandro si allargherebbe come terzino-sinistro. Potrebbe essere anche un'idea in caso di necessità. Quindi io sinceramente, inizialmente ero convinto che Alessandro venisse ceduto, adesso non sono più così sicuro perché sembra che abbia comunque la fiducia del mister, poi, diciamo, la palla, per così dire, passerà a Pirlo. Colui che deciderà sarà l'allenatore della Juventus, e attenzione, poiché per me il problema è soprattutto di concentrazione quindi mentale, Pirlo potrebbe anche risolverlo. È chiaro che Alex Sandro però non deve essere l'unico terzino-sinistro di ruolo, in caso di difesa a 4, per esempio, perché altrimenti le sue prestazioni sicuramente poi andranno calando lungo la stagione, come è avvenuto l'anno scorso, dove comunque è partito bene, e poi è calato perché non aveva alternative valide. Quindi è chiaro che bisogna avere comunque un altro terzino comunque in grado di giocare nella Juventus con esiti positivi. So che molti di voi sono critici con Alex Sandro, sì, non crossa sempre benissimo, ma non è neanche un pessimo crossatore. Io ritengo che la Juventus, le alternative siano due, o cederlo senza regalarlo, quindi cederlo bene e monetizzare anche perché sarebbe tutto utile in quanto il suo acquisto è stato ampiamente ammortizzato. Oppure, se si deve comprare tanto per comprare, se si deve rischiare male, nel senso di scegliere tanto per scegliere, appunto, no. Mi tengo Alex Sandro quest'anno, spero che Pirlo riesca anche a, tra virgolette, migliorare quegli aspetti che sono soprattutto i cali di concentrazione, eccetera, e magari rivalorizzare questo giocatore. Perché no? La domanda che vi faccio, voi vendereste sicuramente Alex Sandro o un giocatore che potrebbe anche meritare fiducia da parte della società bianconia? Perché la mia impressione nell'ultimo anno è stata quella che Alex Sandro sia un po' uscito dal mondo di Juventus dal punto di vista mentale. Quindi non è tanto solo un discorso tecnico, ma è un discorso proprio mentale. Pirlo potrebbe riuscire a rilanciare questo giocatore, secondo voi? Chissà. Voi cosa ne pensate? Come sempre vi invito a interagire e sono curioso di leggere la vostra opinione per creare il solito dibattito costruttivo. Grazie, alla prossima pillola. Ciao!